Buonasera, ma qua qua ne avete voi? Quello è con Giorgio? No, no, del comune, con la stessa, e quindi la mettete nel pozzo? Sì, la mettiamo qua nel pozzo, la mettiamo. E ci vuole lavoro nel cilessino? Ce ne vuole? Una voglia, una voglia. E tutte quelle che sono più o meno? 4.000 m2. Ma già l'avete piandato? Sì, nel settembre. E come sta crescendo? Buono, buono. I dottori vengono a besotarsi e dicono, ci leggono come questo? Non l'ho messo mai, ma solitamente in questo periodo si pianta? D'estate solitamente si lascia riposo? No, si lascia riposo, ma è raro, perché questa ora è caldo. Stura? Cioè, a che ora ci sei lavorato? Alle 3 del mattino? No, alle 4? Alle 5. Alle 5 e mezza, sì. Ma a mezzogiorno già, anche alle 10 forse? No, e alcune volte, insomma, verso le 11 e mezza, insomma, prima delle 11 e mezza. E sotto serra c'è un caldo incredibile. Sì, sì, è terribile. Adesso abbiamo messo calcio e quindi... Buono. Ora, settembre, produzione. Abbiamo fatto il laghetto, l'ho vista. Eh, l'ho vista. E questo dovrete sempre dal consorcio fare? Sì, questo dal consorcio lo prendiamo. Qua l'acqua è il primo argomento di conversazione. È vero? È vero. Siamo a fare senza acqua, che niente si fa. Comunque, io volevo fare la prova da me che scavare. Mio zio dice che la trova. No, no, io me l'ho fatta. Con l'acqua del consorcio. E la propria mano, quella dei tetti. Quella dei tetti. Poi, ma quella dei tetti per la cisterna e cose. C'era il vecchio proprietario, ce l'aveva fatta il pozzo, e poi l'ha inquinato con... E dice, ce n'era picca. È andata più in basso e ha trovato l'acqua salata. È inquinato tutte le cose. Sì, quindi allora niente. Quindi non ce n'è acqua per dire niente.